A tutti buongiorno dall'ippodromo Arcoveggio, riapertura della pista bolognese, oggi giovedì 8 febbraio 2024, prima corsa riservata a Puledri di 3 anni sulla distanza del Miglio, 6 dietro l'autostart, 1 Freud Dei Greppi, 2 Faber Gb, 3 Flywise AS, 4 Fuoco d'Amore, 5 Fantastica Fast, 6 Fast & Furious I favori in chiusura per Fuoco d'Amore, Enrico Bellei, numero 4 dello schieramento, macchina che accelera in progressione e in breve stacca Partenza veloce di Fuoco d'Amore che però ha all'interno, 3 concorrenti che fanno partenza a loro volta Freud Dei Greppi conserva la testa nei confronti di Flywise AS che si accoda davanti a Faber Gb mentre rimane all'esterno per il momento almeno Fuoco d'Amore La via con decisione Freud Dei Greppi al completamento della dritta delle scuderie, 400 iniziali coperti in 28,6 Ufficiale, sempre in seconda posizione, Flywise AS e la velocità ha fatto sì che Enrico Bellei abbia preso un po' in mano e dopo 600 metri in 43,9 E' sempre all'esterno scoperto Numero 6 Fast & Furious Fast & Furious all'esterno c'è anche Fantastica Fast, se ne vanno i primi 800 in 58,6 Andatura davvero molto svelta quella imposta da VP Dei Greppi che affronta la penultima piegata Con i scia sempre Flywise AS all'esterno Fuoco d'Amore fin dalle prime battute seguito da Fantastica Fast Chiude FaberGB alla corda il chilometro in 1,13,5 Con Freud Dei Greppi che continua a comandare nei confronti di Flywise AS All'altezza dei 400 conclusivi un parziale ancora in 15,1 All'esterno rimane generosamente Fuoco d'Amore ma ormai è in affanno ovviamente A metà della curva conclusiva Flywise AS sempre in scia A Freud Dei Greppi mentre accende a spostare anche FaberGB L'errore improvviso dal ingresso in retto d'arrivo da parte di Freud Dei Greppi Flywise si trova al comando ma scatta al suo esterno FaberGB Flywise però si difende nel finale Vince su FaberGB al terzo ancora Fuoco d'Amore 1,14 e 3 Il raguaglio conclusivo 39 a chiudere L'errore di Freud Dei Greppi all'ingresso in addirittura d'arrivo Ha avuto qualche problemino in curva appena in retta Ha sbagliato E così ne ha approfittato Flywise AS Corsa servita sicuramente su un piatto Ma ci ha messo del suo sicuramente l'allieva di Alessandro Gocciadoro Che vince bene su un valido FaberGB Che conquista il secondo posto La vittoria invece per Flywise AS Alessandro Gocciadoro In salchi e al training per conto della scuderia Chelsea Grazie 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 Grazie